Dal basket al patinaggio, passando per la scherma agli scacchi, solo per fare qualche esempio. Tantissime le specialità che sia a Belluno che a Feltre i bambini e i giovani hanno potuto sperimentare con Sport in Piazza, iniziativa promossa dai rispettivi comuni con la collaborazione delle realtà del volontariato locale. Nel rispetto delle normative di sicurezza Covid, la manifestazione ha saputo come sempre divertire i giovani e le famiglie. Siamo contentissimi, la giornata ovviamente ci aiuta, tanta gente in piazza, siamo riusciti a organizzare nuovamente questa manifestazione storica dove le società sportive del comune di Belluno sono in piazza per far provare ai nostri giovani tutti i nostri sport. Il risultato è eccezionale perché vedo che i bambini e i bambini si stanno divertendo, stanno provando. Un'edizione di ripartenza, un'edizione nella quale abbiamo più di 30 associazioni sportive presenti in città. Dislocate tra Largo Castaldi, Piazza Maggiore, l'area di Pra del Moro e il Palaghiaccio. Tra le novità quest'anno abbiamo realizzato un utile quadernetto ad uso di famiglie e bambini nel quale sono presenti tutte quante le associazioni sportive che hanno aderito a Sport in Piazza 2021 e nel quale si trovano i riferimenti delle stesse affinché le famiglie possano prendere contatti e portare i più piccoli a provare l'attività sportiva anche nei rispettivi luoghi di gioco. Presente a Belluno anche Luz Dolomiti con un proprio stand per ribadire l'importanza del movimento per la salute della persona ma anche di un'alimentazione sana. Un'occasione inoltre per promuovere il concetto di sicurezza stradale. Tentiamo di partire il più presto possibile affinché i nostri ascoltatori, i ragazzi siano anche buoni testimoni a casa, in famiglia, in auto con i propri genitori affinché ricordino anche essi ai propri cari quali sono le regole da rispettare.